Buongiorno a tutti, hello everybody, benvenuti nel modulo lezioni di inglese per tutti di Lina Undina. Oggi faremo la nostra lezione numero 85. Vi ringrazio che mi guardate, non dimenticate quelli di voi che guardano, che non ricevono le mie e-mail, che potete scaricare il materiale che metto per voi nei commenti. E la seconda comunicazione che vi vorrei fare è che ad oggi un po' riceverete, diciamo sempre in inglese, farò sempre una copia di lezioni perché sono due livelli diversi, riceverete questo paio di lezioni, diciamo una settimana sì e una settimana no, così facendo di meno vi do l'opportunità, anche la possibilità di fare di più, così avrete più tempo di preparare le lezioni e di fare anche le altre attività. Il secondo motivo per il quale lo faccio è che a me serve il tempo per scrivere perché le lezioni che devo scrivere adesso sono aumentate e l'altro motivo è che alcuni di voi mi hanno scritto che sono indietro con il materiale. Perciò la decisione è così, in un momento quando diciamo succederà di trovare più tempo, poi eventualmente facciamo altri cambiamenti. Allora, possiamo iniziare con la nostra lezione, vi ringrazio un'altra volta che mi seguite. Come sapete siamo alla fonetica e agli esercizi e adesso come vedete siamo passati alla pagina 17. Chi ha il libro può anche seguire, dovete sapere che alcune delle parole si ripetono e sono fatte proprio per questo, per esercitare, di pronunciarle. Allora, come sapete vi leggo le parole in inglese con la trascrizione e la traduzione in italiano, invece voi nel vostro materiale troverete le parole e la traduzione sotto, sono un po' mischiate, perciò voi dovete fare l'esercizio e abbinate le parole e diciamo con la traduzione a fianco. Allora, cominciamo e dopo la mia lettura leggerò ogni parola due volte e potete anche voi diciamo provare a ripetere con me. Non dimenticate sempre di usare il vostro dizionario, qualsiasi che sia, a cartaceo oppure online. Ogni volta quando vi viene un dubbio potete andare su Word Reference e a trovare la parola necessaria. Molte delle parole vanno lette e potete sentire anche la pronuncia. Ok? Allora iniziamo. Let's start. La prima parola è brother, fratello, nose, naso, house, casa, hat, cappello, who, chi, whose, di chi, how, intero, pit, cava, pet, animale, domestico, quelli da casa, pet, pet, dare una pacca, vedete qua la pronuncia è quasi la stessa ma vogliono dire due cose diverse e poi qua c'è uno a, one a and this is an i. So this is a pet and this is a pet. E la differenza è quasi impercettibile. Bet, pipistrello. Bot, questo è una parola bot che si usa nell'informatica e ha l'abbreviazione di robot. Ok? Rit, liberarsi. Ret, rosso. Rat, fico. Questo è uno slang, uno gergo che vuol dire cool. Ok? Rot, bastone o bacchetta. Hit, colpire. Heat, calore. E adesso leggeremo ogni parola due volte così potete ripetere insieme a me. Ok? Let's start. Brother, brother. Brother, brother. Brother, brother. Nurse, nose. House, house. House. Hat, hat. Who, who, whose, whose. Hole, hole. Pit, pit. Pet, pet. Pet, pet. Pot, pot. Bit, bit. Bit, bit. Bet, pet. Bet, bet. Bet, bet. Bot, bot. Rit, rit. Rit. Rit, red. Rad, rad. Rat, rat. Rot, rot. Rot, rot. Hit, hit. Hit, hit. Hit, hit. Hit. E questi erano le parole di oggi. Se ci sono le parole che non conoscete, non esitate di cercarle nel vostro dizionario. qualvolta che vi serve aprire l'edizionario sarebbe utile per tenere la vostra memoria aggiornata e sentirvi meglio. Allora non dimenticate, do not forget, stay safe and sound and see you in the next video. Bye Bye! Bye Bye! Grazie a tutti.